L'unana ha perso 25 kg In un servizio fatto per pomeriggio 5, l'unana ammette che, pur avendo perso 25 kg, con le feste natalizie ne ha messo su qualcuno ed è per questo che si reca da un dietologo barra nutrizionista per avere qualche dritta per dimagrire Si parla di dieta dei colori ma, tornati in studio, l'emme ha da ridire, ti ha dato l'anguria, la zucca Tutte cose che fanno ingrassare come un vitello, accusa il farmacista che non trova però gli altri ospiti in studio, e la stessa Luana, d'accordo . La dieta di Luana Desposito. Che Luana Desposito. La splendida ventriloqua di avanti un altro sarà ospite di pomeriggio 5 da Barbara D'Urso La ragazza ha raccontato la sua esperienza che l'ha portata a perdere 25 kg di peso per partecipare nella categoria Curvia Miss Italia Luana è nata in Germania ma la mamma è Lucana e il padre napoletano. Negli anni si è specializzata in danze orientali, ma è anche amante del fitness e distruttrice di Pilates A Mediaset ha raccontato, dopo la fine della mia storia d'amore di 7 anni sono caduta in depressione Ad un certo punto però ho capito che non ne valeva la pena e ho deciso di riprendere in mano la mia vita Ho cambiato colore dei capelli, stravolto il mio look e ho iniziato una dieta. Grazie a questa sono riuscita a dimagrire molto Ha aggiunto di non aver patito la fame, ma di aver semplicemente seguito una corretta alimentazione, arrivando a mangiare un po' di tutto nelle giuste dosi dopo aver eliminato in una prima fase pane e pasta Luana Desposito, chi è? Il ruolo di ventrilo qua di avanti un altro.Luana Desposito si è fatta conoscere al pubblico italiano soprattutto per il ruolo di ventrilo qua nella trasmissione avanti un altro condotta da Paolo Bonolis su Canale 5 In cosa consiste il suo ruolo? Con la sua seducente danza, è esperta in balli orientali, deve provare a distrarre il concorrente che cerca di rimanere tranquillo e di indovinare le domande La ragazza ha stretto grandi amicizie all'interno della trasmissione, legandosi soprattutto a Francesco Nozzolino con il quale ha posato diverse volte Luana ha uno splendido carattere e oltre ad essere veramente bella ha nei suoi occhi grande luce, quella di chi ha voglia di vivere la sua vita al 100% A pomeriggio 5 probabilmente racconterà la sua esperienza che l'ha portata a perdere molti chili Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like